insieme un campo riformista progressista che si chiama Carlo Cotarelli, ha lavorato con noi al programma per l'Italia, è un'illagora democratica, se l'ETA vuole fare veramente un lavoro di alleanza e lo facciamo in Lombardia, tanto i lombardiani e i 5 Stelle non ci sono più, quindi il problema non si pone, se poi devono avere i 5 Stelle per forza che si comprassero un cane lo chiamano 5 Stelle, ma i 5 Stelle in Lombardia non ci sono, quindi quello che succede è che c'è il candidato ideale, se si mettono però a dire no però non decidiamo, però c'è Maiorino, però c'è mia zia, allora e se lo fanno da soli perché quello che è successo in queste elezioni che il PD ha deciso i candidati per conto solo è venuto da noi dicendo sostenete, quello che ho detto è semplicemente che questa cosa non succede, perché con tutto che sono elezioni regionali dove certo si deve cercare per il sistema elettorale di fare un accordo, noi preferiamo andare rischiando con il terzo polo che non fare sostenere un candidato improbabile che perderemo, quindi allerta gli dico, c'è Cottarelli, siamo tutti d'accordo, ieri hai detto parliamo con Calenda eccetera, bene parliamo, decidiamo che è Cottarelli, si parte subito perché c'è un lavoro enorme da fare, noi siamo stra contenti, stra felici, stra entusiasti.